Ogni giorno ne capita una, un problema c'è sempre, treni soppressi, treni in ritardo, treni che non arrivano, passaggi a livello aperti, non meglio specificati, problemi tecnici. Sono questi i commenti dei pendolari di ferro tramviaria che dopo l'ultima odissea vissuta ieri a causa di un blackout elettrico, non risparmiano oggi, lamentele, giudizi inclementi per i disservizi offerti. Ieri pomeriggio, dicevamo, l'ultima avventura per i viaggiatori. Il treno, partito da Bari Centrale alle 16.20, dopo circa mezz'ora si è fermato tra Terlizzi e Ruvo di Puglia. All'interno numerosi pendolari, ma quella che inizialmente sembrava una breve sosta, come di tanto in tanto capita, e così come ben sanno i viaggiatori della tratta, con il passare del tempo si è trasformata in una vera e propria trappola. Il treno non riparte. I viaggiatori sono bloccati all'interno, ermeticamente chiusi. Alcuni vagoni, così come vi mostriamo in queste immagini, sono senza luce. Intanto, il tempo passa, i pendolari iniziano ad inviare messaggi, foto, vocali, video. Alle 19 i passeggeri fanno sapere di essere ancora bloccati sul treno fermo. Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, il 118. Alcune persone iniziano ad avvertire qualche disagio comprensibile vista la situazione. Alla fine, il treno non è stato evacuato, ma bensì trainato da un altro proveniente da Terlizzi, che lo ha agganciato e sospinto fino alla stazione di Ruvo. Sono le 19.30 quando i viaggiatori scendono dal treno, ad attenderli, oltre ai soccorritori, anche alcuni pullman. Il blackout, naturalmente, ha inciso pesantemente sull'intera circolazione ferroviaria, con ritardi e corse cancellate.